Una migliore gestione del Consorzio di Bonifica, un accordo con le Università di Berlino e Catania all'utilizzo dei fondi per la Banca della Terra, sono alcuni dei temi affrontati ieri sera nel corso di un incontro con il settore agricolo promosso dall'assessore all'agricoltura del Comune di Gela, Simone Siciliano. Imprenditori ed esperti hanno denunciato alcune criticità di un comparto in forte flessione chiedendo che delle loro rivendicazioni vengano investite anche le autorità regionali. L'approvvigionamento in riguo rimane uno dei problemi maggiori, così come grande attenzione va prestata alla sicurezza delle campagne. L'incontro di oggi era volto a fare la situazione su quello che l'amministrazione sta già portando avanti come attività produttive, in particolare come comparto agricolo, con quelle che sono le esigenze di chi vive le attività agricole. Ovviamente le questioni sono tante, dal controllo delle aree rurali, alla gestione delle infrastrutture, ma sicuramente anche alla gestione della distribuzione dell'acqua in rigua, che ha delle carenze notevoli che poi possono finire anche in capo ad una gestione di un consorzio di bonifica ridotta all'ubicino dai mancati conferimenti o comunque i ridotti conferimenti da parte della regione. Queste sono tutte azioni che politicamente l'amministrazione vuole portare avanti, vuole portare ai tavoli regionali per fare chiarezza su quello che sarà il destino dell'agricoltura a Gela, ma soprattutto su quello che sarà il futuro invece della trasformazione agroalimentare. Lo scopo, come si è detto anche in altre circostanze, è quello di cercare di incentivare, di promuovere i prodotti locali per un mercato globale. Ieri sono intervenuti tra gli altri il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Enzo Giudice ed il direttore della Riserva del Biviere Emilio Giudice. L'agricoltura è un settore molto importante, anzi purtroppo credo, purtroppo tra virgolette, in questo momento, dopo la chiusura della raffinità, credo che sia il settore che dà più occupazione nel nostro comprensorio e anche a livello di PIL, di produzione ordeavendibile, credo che sia il primo settore sempre a Gela. Pensare che l'amministrazione alla sola possa risolvere tutti i problemi dell'agricoltura non è proprio un'idea geniale, quindi io direi di coinvolgere anche gli imprenditori agricoli. La dignità del reo e il suo reinserimento è stato il tema al centro del convegno organizzato in una o due giorni da Lions Club di Gela in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati. Nel corso del primo incontro sono anche stati illustrati dati statistici sulla condizione carceraria in Italia, elaborati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Palermo. La società non può permettersi relitti umani, non può permettersi di confinare, di segregare persone nella emarginazione. Siamo in un'epoca in cui le possibilità finanziarie ma anche di solidarietà sono abbastanza limitate, però bisogna fare il possibile, bisogna fare tutto il possibile perché la società deve recuperare, deve recuperare al consorzio civile, al consorzio umano delle persone, delle persone che hanno sbagliate ma l'atteggiamento non può essere quello del rifiuto, della repulsione. E soprattutto il carcere deve essere un luogo in cui si riscoprono i valori di umanità, i valori sociali, non può essere un luogo violento, non può essere un luogo di abbruttimento, perché se il carcere abbruttisce fuori dal carcere la società troverà un altro brutto. E noi abbiamo bisogno di uomini, di persone che comprendano innanzitutto il valore del rispetto degli altri e il valore costituzionale della solidarietà. Noi vorremmo che l'amministrazione ci indicasse un sito, un piccolo sito, una villetta, una strada, una zona che ha bisogno di un piccolo recupero, di essere recuperata ad un buon arredo urbano o a qualcosa del genere, certo non impegnando grandi somme che non le abbiamo. Ecco, e noi faremmo questo recupero come? Affidando questo lavoro alla cooperativa dei detenuti, alla cooperativa degli ex detenuti. L'importante evento è stata prestigiosa occasione per riflettere sul testo di Giovanni Maria Flick, Elogio della dignità. Viviamo in tempi nei quali ci siamo dimenticati, o non ci preoccupiamo di sapere che cos'è la dignità, che poi è una cosa, un concetto che appare difficile, filosofico, non è molto concreto. È il modo di poter vivere insieme rispettandoci reciprocamente. La dignità è un, il filosofo o un giurista direbbe, è un attributo della condizione umana. Io direi con più semplicità è ciò che ci consente di vivere insieme rispettandoci. Io rispetto l'altro, l'altro rispetta me. E questa è una condizione essenziale per poter andare avanti. La dignità è non solo un valore di tutti gli uomini, di tutte le donne a strato, è un valore soprattutto concreto di ciascuno, dei più deboli, dei diversi, delle donne, dei malati, dei bambini, degli anziani, dei migranti clandestini, dei detenuti. Quindi chi ha meno possibilità deve essere aiutato di più per realizzare appieno la sua dignità. Lo dice la Costituzione quando spiega che tutti hanno pari dignità sociale, che è compito della Repubblica, cioè di tutti noi aiutare ciascuno di noi a raggiungere lo stesso livello di dignità. Un momento di incontro con la testimonianza di rappresentanti di alcune realtà operanti nel comprensorio sul vasto tema della cultura e del turismo. Si tratta dell'evento organizzato dal forum Cultura e Turismo PD Sicilia, che si è svolto sabato scorso nella sala convegni dell'hotel Sileno di Gela. All'interno del Partito Democratico esiste un forum che si interessa di cultura e di turismo. Sì, è un forum messo in campo dalla segretaria regionale, rappresentata qua da Antonio, che proprio nella segretaria regionale si occupa di turismo e cultura, che vuole essere un modo di riavvicinare un po' la politica ai cittadini, andando a comunicare e a prendere le esperienze da quegli altri attori della società, che sono anche essi in un certo senso attori politici, che danno un contributo ai nostri territori, sia come associazioni, che come singoli, anche come volontariato, e danno quindi un contributo, in questo caso, nel campo della cultura e del turismo. E quindi è un'iniziativa assolutamente lodevole e importante, perché riavvicina un po' quella che è la politica classica al territorio. Quanta importanza ha questo argomento, la promozione turistica del territorio, il rilancio della cultura all'interno del Partito Democratico? E da dove è nata l'idea di riaccendere il dibattito su questi argomenti? La segreteria regionale del PD da qualche tempo ha iniziato un'attività sui territori che serve innanzitutto ad ascoltare quelle che sono le competenze, le esperienze, i circoli, e da lì prendere tutti quegli spunti e quelle iniziative che si vanno a innestare nel percorso di riforme che necessariamente servono alla Sicilia. In questo senso è chiaro che noi abbiamo un patrimonio culturale, ambientale, enogastronomico straordinario, e va valorizzato come? Con delle riforme che permettono di ottimizzare le risorse da una parte, ma dall'altro naturalmente innestandole in territori che siano fertili. E quindi il confronto e il dialogo per noi è fondamentale. Questo è uno di quegli incontri in cui prenderemo spunti che poi porteremo all'interno di tutte le istituzioni nelle quali noi siamo presenti. Tra le realtà chiamate a tracciare un bilancio delle proprie attività raccontando esperienze e progetti, le associazioni, la Polis della Cultura, la Proloco di Gela e la Fattoria Pedagogica, la Grazia di Caltagirone. A distanza di quasi un mese dall'ultima protesta, ritornano a fare sentire la loro voce le operatrici del servizio di rivezione scolastica Gela. Questa mattina altro si tina dinanzi all'assessorato all'istruzione in Viale Mediterraneo. Oggi è il primo dicembre e la rivezione nelle scuole ancora non è partita. Perché? L'abbiamo chiesto al segretario della Filcams e Cigelle Emanuele Scicolone. Noi abbiamo saputo che mentre si era concordato, l'amministratore comunale aveva scelto di dare imbroroga all'azienda che aveva fatto l'ultimo giorno del servizio. Addirittura abbiamo avuto contatti come sindacato con questa azienda per fare già le assunzioni. poi abbiamo saputo invece che per via di un credo... A quanto pare l'azienda che aveva fatto il ricorso già l'anno scorso aveva ottenuto un commisteriamento del servizio e il sindaco gli ha proposto di barattare la rinuncia al commisteriamento con l'affidamento del servizio. È una cosa che legalmente si può fare e ad oggi sappiamo che si sta ritardando o comunque è tutto fermo perché mancherebbe un barrile legale del ufficio legale del sindaco. Le operatrici del servizio di rivezione scolastica sono stanchi di aspettare. L'amministrazione comunale, hanno ripetito ancora una volta, deve fare in fretta. Noi adesso siamo qua per questo perché stamattina vogliamo delle risposte certe. Non ce ne andiamo da qua semmai loro non ci danno una risposta concreta. Gli altri anni abbiamo iniziato prima, tipo la fine di ottobre, invece quest'anno proprio non era mai successo che noi a novembre-dicembre restavamo fermi completamente. Il ritardo è troppo quest'anno, si doveva migliorare, invece quest'anno siamo molto ma molto delusi, nel senso di dire sia dall'amministrazione, sia di tutti. Quindi siamo qua proprio per una protesta e non ce ne andiamo. Flash Mob Special Olympics in contemporanea in tutte le regioni d'Italia. Anche Gela ha aderito animando Piazza San Giacomo al fine di dare visibilità alle abilità dei soggetti con disabilità intellettiva e lanciare il messaggio che la loro inclusione è assolutamente possibile. Anche Gela ha Flash Mob per l'inclusione. Sappiamo che da anni a Gela, l'Associazione Orizzonte, realizza il programma Special Olympics che è un programma per includere i ragazzi disabili nella società. Sappiamo anche che a Gela è nata la prima squadra di calcio unificato. Adesso in tutta l'Italia si fa sport unificato. Anche oggi noi, come in tutte le città dove si svolge Flash Mob, c'è una testimonianza che la disabilità può essere inclusa nella società, non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana. No dunque all'isolamento, no alla emarginazione, sì alla valorizzazione della persona umana, qualunque siano le abilità di ciascuno. Un inno alla vita, insomma. Quali sono le iniziative urgenti che l'amministrazione comunale di Gela intende adottare per risolvere i problemi che interessano il parcheggio Arena, rimasto al buio e completamente inutilizzabile? E' la domanda posta dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso. Il parcheggio, sostengono due esponenti politici, rappresenta l'ennesimo spreco di denaro pubblico. Costata 3 milioni di euro, l'opera non è utilizzata. Il parcheggio Arena è utilizzato soltanto al 30%, quindi il 70% si trova in uno stato di degrado e abbandono. L'amministrazione comunale dovrebbe, secondo me, innanzitutto migliorare quello che è investire sul ripristino di tutto il parcheggio, renderlo agibile, far funzionare quello che è anche l'ascensore e in modo che possa essere collegato quello che è il lungomare con il centro storico e l'utilizzo completo di tutto il parcheggio, così come aveva detto in campagna elettorale. Per Reset 4.0 serve una strategia e un buon governo, non servono le promesse elettorali prive di contenuti. Allo stato attuale l'amministrazione 5 Stelle non ha nessuna responsabilità, se non quella dell'immobilismo, cioè nel senso che questo abbiamo ereditato dalla vecchia amministrazione e questo è ancora rimasto. Noi auspichiamo che la nuova amministrazione, così come ha detto in campagna elettorale, possa affidare questo servizio a lungo termine e farlo, così come ha detto magari alla Ghelas Multiservizi, così da dare il lavoro a questi addetti in modo definitivo, così da dare un utilizzo definitivo di questi due parcheggi, visto che ora deve nascere a Capo Soprano la cittadella della salute, quindi io penso che sia determinante l'utilizzo del parcheggio di Capo Soprano. Il far funzionare correttamente, probabilmente possiamo determinare sia nel periodo estivo, sia nel periodo invernale, l'utilizzo del centro storico come area naturalmente dove poter passeggiare e lungomare poter fare l'isola pedonale d'estate e quindi avere il parcheggio completamente ristrutturato, adeguato e utilizzato dai nostri cittadini. La vostra, se vogliamo, non è una bacchettata, ma è una critica costruttiva. Sì, la nostra è una critica costruttiva, siamo inizio consigliatura, fare questo significa dare una prospettiva alla nostra città e far utilizzare a meglio le risorse economiche che ci sono. Un'opera incompiuta risalente agli anni 70 che avrebbe dovuto ospitare una scuola si candida a diventare centro servizi alla città. È il progetto presentato dal Comune di Gela nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stanzia circa 200 milioni di euro in tutta Italia per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L'immobile, del quale adesso permane solo lo scheletro di cemento, adeguare alla norma antisismica, ricade nel quartiere denominato Baracche che presenta alti indici di degrado sociale ed edilizio tutti i parametri Istat che concorrono alla finanziabilità dell'opera. Il bando è quello delle aree degradate, è uscito circa un mese fa a livello di Consiglio dei Ministri. È un bando che doveva servire per la riqualificazione di aree che avevano un indice di degrado sociale, un indice di degrado edilizio elevato. Con il settore lavori pubblici, grazie al pieno impegno da parte soprattutto dell'architetto Galandi e dell'architetto Città, si è riusciti, dopo vari proprie studi del bando stesso, ad individuare un'area che potesse essere consona alla vittoria stessa del bando e quindi potesse essere comunque ammissibile al bando. L'area individuata è un centro servizi per il quartiere Baracche, lo stabile è un rudere che è accanto allo stabile dei lavori pubblici, quindi si cercherà di recuperare lo stabile che al momento è un rudere e dopodiché all'interno si andranno a fare tutte delle attività sociali che riguardano il telesoccorso ad esempio per gli anziani e così come un centro psicoeducativo diurno. Devo dire che alcune delle proposte per quanto riguarda la parte sociale all'interno dello stabile sono arrivate anche da parte della società civile, infatti ad esempio c'è stato anche il contributo del dottore Agati per quanto riguarda la relazione del centro psicoeducativo diurno che servirà per il recupero dei giovani che vivono in uno stato di disagio. Per un importo di 2 milioni di euro il centro servizi alla città prevede l'offerta dei servizi di telesoccorso, dello sportello unico delle attività produttive, di un centro servizi alle imprese, di un centro psicoeducativo diurno e di una struttura multiservizi per immigrati. Vaccinarsi fa bene, non lasciarti influenzare. Questo lo slogan scelto per promuovere la campagna anti-influenzale dell'ASP di Caltanissetta che in occasione dell'Influ Day, voluto dall'assessorato regionale alla salute, ha organizzato nei locali del Servizio di Sanità Pubblica, Epidemiologica e Prevenzione di Via Cusmano una giornata di sensibilizzazione per invitare i nisseni, in particolare gli over 65, i soggetti a rischio e le donne, al secondo o terzo trimestre di gravidanza e chi svolge un'attività di valenza sociale, a vaccinarsi. 38 mila le dosi distribuite a medici di medicina generale nei 22 comuni della provincia, solo 3 su 226 non hanno aderito alla campagna. Per l'occasione il direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono e il direttore sanitario Marcella Santino e tante altre autorità cittadine si sono sottoposte alla somministrazione del vaccino per poi indossare la spilla Io mi vaccino. Vaccinarsi significa prevenire e nel caso specifico del vaccino anti-influenzale, specialmente rivolto a quelle che sono le popolazioni a rischio, quindi i bambini, i portatori di patologie croniche, gli ulteriori 60 anni, è un atto che ci consente di avere meno complicanze durante l'epidemia influenzale, ci consente di avere meno morti durante l'epidemia influenzale perché l'influenza, bisogna che si sappia, può essere anche letale per queste patologie a rischio, ma ci consente anche un recupero importante di mancate giornate di malattia con tutte le ricadute sociali che ci sono sulla nostra società civile. Lo scorso anno si è registrato un 20% in meno di vaccinazioni nella popolazione over 65 con una ricaduta in termini sanitari. 648 ai casi gravi di influenza nella stagione influenzale 2014-2015, 163 i decessi. Vaccinarsi non solo fa bene, ma è importante, è importante perché previene una serie di malattie croniche che possono colpire soprattutto le fasce più a rischio quali pazienti ultra 65 anni, che possono prevenire anche forme di mortalità o che possono diminuire malattie come la meningite. Voglio solo fare un piccolissimo appunto, l'anno scorso che la vaccinazione non è stata efficace, è molto aumentata l'infezione da pneumococca, sono molto aumentati le meningite ed è cresciuta di tantissimo la mortalità in questa popolazione. Quindi vaccinarsi non solo è utile, ma diciamo che è quasi importante e indispensabile. Impegno, passione, stare al passo con i tempi è tutto ciò per mezzo secolo di attività in provincia di Caltanissetta. È il concorso organizzato dall'azienda speciale in collaborazione con la Camera di Commercio, che per l'occasione ha radunato nella sala conferenza del centro polivalente Michele Abbate 26 lavoratori che da più di 50 anni possiedono la propria attività commerciale in città e in provincia. Una pergamena accompagnata da una medaglia ad oro e una spilla sono stati i premi consegnati dalle autorità civili, militari e religiose che durante la cerimonia hanno più volte ricordato quanto il contributo degli imprenditori e dei titolari d'azienda abbia permesso all'economia nissena di resistere ai cambiamenti del tempo e della società. Credo che sia una giornata importante per la provincia di Caltanissetta e questo premio che l'azienda speciale della Camera di Commercio vuole dare ai cittadini, imprenditori, attività commerciali, agricole, industriali del territorio è per ricordare coloro i quali con molto coraggio hanno avuto la forza di resistere in un territorio pieno di difficoltà creando ricchezza economica e aiutando lo sviluppo dei territori. Noi non abbiamo la grande impresa, la piccola e media impresa le attività commerciali sono il tessuto produttivo di una provincia che deve uscire dall'isolamento e vedere e ritrovare grandi prospettive con cui aiutiamo il territorio. Un premio alla resistenza, vale a dire la capacità di rimanere in attività per oltre mezzo secolo è così che parlano del loro mestiere i due artigiani nisseni Concetta Amico e Totò Duminuco. Ho scritto alla Camera del Commercio del 1963 ma avevo 15 anni, ne ho 82 e si tira un po' il conto 62 anni che lavoro. È un enorme piacere. Molto, molto piacere. Ma mi dispiace che oggi le ragazze non vogliono più imparare questo mestiere perché è un grande e bello mestiere che sarei disposta ad insegnargli per non perdere la tradizione perché vorrei sapere se la pelliccia non piace a nessuno altro che se non piace perché è bella, calda, elegante, molto raffinata. La mia professione caratterizza tante cose ne potrei prendere una a caso io ho un cavallino inizialmente oltre alle poltrone dalla ditta famosa Scuderi mi hanno dato anche un cavallino per tagliare i capelli ai bambini bene, io ho fatto quattro generazioni oggi vengono i padri a tagliare i capelli ai propri figli nel cavallino dove loro si sedevano. Se continuerà a persistere la mancanza di acqua il plesso di scuola primaria e scuola dell'infanzia ex magistrale di Via Europa resterà chiuso il cartello affisso ieri con la firma del dirigente scolastico Cetta Mongelli è stata quasi una premonizione anche oggi infatti niente acqua e niente lezioni era già caduto qualche settimana dietro chiesto l'intervento all'amministrazione comunale al fine di adottare ogni provvedimento idoneo per fronteggiare la vicenda del disagio idrico le mamme degli alunni ieri hanno giustamente protestato non è ammissibile, hanno detto che in una scuola non ci sia acqua arriviamo a scuola e siamo costretti a riportarci per chi può i bambini a casa perché manca l'acqua questo è un disagio, un disturbizio che si crea alle famiglie enorme noi pensiamo di essere in una città civile dove paghiamo le tasse e invece ci troviamo costretti a questi enormi disagi quindi noi non siamo disposti a tollerare vogliamo che la scuola, il dirigente che rappresenta le famiglie e i bambini si assuma le responsabilità si muova, non è un attacco al dirigente vogliamo che ognuno per le proprie competenze per le proprie professionalità agisca nei confronti dell'istituto nei confronti dell'utenza che rappresenta il comune che attacca chiunque noi genitori non possiamo arrivare a scuola senza essere avvisati tra l'altro e riportarci i bambini a casa e se decidiamo di lasciare questi bambini a scuola dobbiamo andare al lavoro o chi ha impegni personale lasciandoli con la preoccupazione che possono prendere un'invezione perché le maestre ci dicono anche i bagni non sono nelle condizioni igienico-sanitarie quindi se il bambino si prende un'invezione noi vi abbiamo avvisato il punto è proprio questo io sono una donna lavoratrice che tra l'altro non ha possibilità perché non ha nessuno a cui lasciare il proprio figlio e si trova nella condizione di mettere a rischio il posto di lavoro perché cosa? per un disservizio che in una società civile non dovrebbe assolutamente esistere il segretario di istituto Nunzio Pseila noi nel momento che abbiamo contezza che manca l'acqua avvisiamo sia i tecnici del comune che sia i tecnici della provincia nonché il sindaco così come Caltacqua nessuno ad oggi ha portato quindi autobotte d'acqua il problema come possiamo risolverlo solamente con la chiusura della scuola nel momento che accertiamo la carenza igienico-sanitaria l'acqua manca anche nel quartiere Catubazza i residenti sono infuriati un disagio che sta creando problemi alle normali attività quotidiane a Grazie a tutti.